Largo Flaiano, sulla carta i lavori dovrebbero concludersi sempre entro la fine del 2023, nonostante i 30 giorni in più per la modifica del progetto. Palazzo Estense ha infatti approvato una determina che modifica in alcuni punti il progetto della nuova maxirotatoria che collega l'autostrada alla città. Una modifica resa necessaria, come si legge nel documento, perché sono state rinvenute delle situazioni di criticità per le quali si ritiene opportuno apportare delle modifiche migliorative. L'elenco delle correzioni, chiamiamole così, è lunghissimo e in particolare riguardano il ramo di ingresso e di uscita della nuova rotatoria in Viale Borri. Grazie.